E bella a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video su GTA V Online Raga, prima di cercare il video vi ricordo il mio gruppo Telegram giù in descrizione Andate a cliccarci tutti per giocare insieme e fare tante glitch e tante cose, tutto insieme Link in descrizione Raga, gala speciale dei 10k, la prima level asian Ed è stata creata da Leroy, la furia, che ringrazio tantissimo Prima level asian per i 10k, raga Andiamo a vedere cosa ha creato il mitico Leroy Attenzione Siamo un bel po' di brutti signori 3, 2, 1 Let's go Iniziamo subito il level asian Ma i 10k qua mi trollano, eh Io già lo so Attenzione, prima curva, rect No, 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 no Ah, non era la prima, dai, però la terza, ma no, ecco E rect Ma i fregni, è doppio rect Ma io che devo fare? Ma i 10k, la, la, la Vai Senza paura zio, senza paura E qua che c'è da fare? Oh mio, oddio Cambia warride R Oh, regà Attenzione Questo cambio warride mi sembra molto, molto Complicato, eh Regà, io non vedo Non vedo dove è la mia macchina Se non vedo dove è la macchina Non riesco a prendere il salto, regà No, no, facciamoli passare Va, se no non vedo niente Oh, ora sì Cambio warride, così, ok Dai, dai, regà Che è facile, non è difficile Attenzione qua, vediamo cosa, dove si va Salto Ah, ok Checkpoint, ho preso Sei buggata, ok Tutto sotto controllo Ok, vediamo un po' Mega salt Aia, 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 aia Ok, siamo a rigirare Ok, guardate lì 10k scritto in grande Ma il senno è che spettacolo Leroy Grandissimo, grazie mille Però Grazie mille l'eroy Per questa splendida gara Andiamo però a farla bene adesso, eh Ok, così Dovremmo essere giusti Ah 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 E' rivelato, non so così, regà Bisogna scopirli Piano piano Che si fanno Ok, adesso sappiamo dove bisogna andare Allora, qua Dobbiamo rigirarci così Vai, che spettacolo Ok Poi Ehi L'ho preso un po' male Però, 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 però No, male Male Allora, rifacciamo, regà Con calma Ok Giriamo la macchina Siamo storti Dritti Non si sa Ok Sp Eh, regà Qua c'è un problema Little A little problem Non riusciamo a fare Ad atterrare nelle warride Ok Ok Fin qua ci siamo E c'è la macchina che tende a spostarsi tutta a sinistra Però ora ci siamo Dai, 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 dai Ci arriviamo Ci arriviamo si sia alla perfezione, regà Ma è cena Oh, le Oh, c'è gente che è già qua, eh Ma è cena Allora, facciamo sti cambi Warride E fa una bugata Che non ti bughi mai XA21 Ma è cena Ma è cena Come si bugga l'XA21, regà È un qualcosa di ignobile Ok Ok Poi, dove si va? Su Si bugga Che è una roba ignobile l'XA21, regà Ma è cena Però devo cercare di non far Bugare troppo, eh Oh, ok Qua c'è il check Easy Primi Dai, dai, dai Dovevo arrivare primi nella mia gara Che mi ha dedicato per il 10K Attenzione Ok Qua c'è un cambio Warride Alla perfezione Sali Allora, io ragazzi I cosi che si girano li odio Capito perché li odio? Perché li becco sempre Sempre Li odio perché li becco sempre Quei cosi che girano li Ho rallentato pure, eh Per non beccarlo Ma l'ho beccato lo stesso Allora Ok Cambio Niente Stavo a dire Cambio effettuato Ma sei messo a scivolare Quindi non le riprendi più Non le riprendi mai più se scivola Allora Madonna Sti cosi che girano Sono il mio incubo La notte Ve lo dico Ok Ti prego Non beccare il coso che gira Sennò veramente Vai vai Veloce 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 Ok Qua c'è un cambio Oh Mio dio Ok Su Giù Giù Si va giù Regà Piano Che non voglio rifarmi È andato su di giri Il motore Facciamo un altro giro di sicurezza Ok Vai Ora Perfetto Check preso E ora Dove si va Oddio Ho capito cosa bisogna fare qua Allora Dobbiamo fare un giro Giro tondo nel tubo Così dovrebbe essere Sì Bisogna fare un No No Oh Zitti Ti è sotterrato lì Ma il senna Che fortuna Zio fortunato oggi Eccoli Eccoli I container Che lo zio odia Ma il senna Me l'ha messi Me l'ha messi Ho detto Magari non ci sono i container Eh Volevi Però era facile Sto container Qua cosa c'è Tanti cambi Warride Allora Ah Non su due ruote Non su due ruote Male Allora Il trucco sta nel Ah Si riparte da qua Perfetto Allora Il trucco sta nel Prendere bene Quella piccola rampa All'inizio Qua è calcolato Tutto alla perfezione Sta piccola rampa qua Bisogna prenderla Così Bisogna atterrare bene qua All'wallride E salire Ok Mamma mia Ora abbiamo Delfino qua Ok Altro cambio Por favor Tengo famiglia Perfetto Sette minuti di gara Fantastica Vedo già il traguardo Piano piano 10k Guardate lì La scritta 10k Raga Fantastica Guardiamo piano piano Olle Perfetto Abbiamo l'ultima parte Mi sa Si si C'è l'ultima parte E poi abbiamo Gli ultimi cambi Che non cambi mai Ok Pum Mamma mia Come cambia bene Tensione qua Che non so cosa c'è da fare Turbo Uh Miniatura Perfavor Wow Guardate che spettacolo Guardate che spettacolo La scritta finale Raga Ma Ezz Che dire Prima di concludere Facciamoci un giro Nella scritta 10k Che ce lo meritiamo Il giro Nella scritta Che fantastica Raga Questo è l'uno Guarda che bello Facciamo tutto il giro L'uno Il zero Eccolo qua E lì c'è il traguardo E il k Raga Che dire Gara fantastica Di l'erroa la furia Io Raga se avete gare da crearmi Mi raccomando Entrate nel gruppo telegram O taggatemi Nelle social club Così io le gioco E soprattutto le vedo Perché a volte mi fate le gare Senza il tag Non riesco a trovarle Nelle social club Raga Andiamo a prenderci Nesta prima posizione Raga Che è la nostra gara Dedicata a noi Level Asian Fantastico E anche Molto molto facile Raga Quindi si può fare Tutti lo possono fare Raga Io vi ringrazio Ancora Per tutti gli auguri Che avete fatto Tutte le cose E veramente Grazie ancora a tutti E noi raga Come sempre Ci becchiamo Al prossimo video Mi raccomando Lasciate tanti dei like Lasciate tanti dei commenti Bella raga